Comandante, Megatron ha il controllo completo dell'isola. Questa è la sua base. Rileva un ingente numero di Decepticons ed installazioni difensive. Questa è l'offensiva finale. In bocca al lupo. Comandante, Megatron è in cima al vulcano. Non sarà facile avvicinarsi. Plana sull'isola e cerca un sentiero che conduca alla sommità. Cerca di decollare dal punto più elevato possibile. Comandante, ho rilevato un segnale Minicon insolitamente forte in quell'insediamento umano abbandonato. Il Minicon ti fornirebbe un vantaggio tattico contro Megatron. Comandante, tramite quel passo montano ti avvicinerai alla sommità del vulcano. La resistenza sarà notevole. Comandante, gli strumenti di sorveglianza dei Decepticon stanno acquisendo la nostra frequenza. D'ora in poi dovremo agire in silenzio. Fornirò solo aggiornamenti visivi. Chiudo la comunicazione. Buona fortuna. Passo e chiudo. Ci siamo. Controlla l'equipaggiamento. Devi essere pronto. Questa è l'unica vittoria decisiva. L'ultima. Questa è l'unica vittoria.